Eccomi, sono nella cucina di Rimessa Roscioli insieme allo chef Tommaso Fratini che ci sta preparando uno dei suoi piatti, ossia... Una tartare di carne. Perfetto, io l'adoro la tartare di carne. Diciamo che non ci siamo messi d'accordo però. Quindi come ce la prepari? Allora, prendiamo innanzitutto un controgirello di scottone, in questo caso 18 mesi, l'abbiamo battuta a coltello e l'abbiamo lasciata marinare con un po' di olio extravergine d'oliva e un po' di battuto di capperi. L'olio, che olio hai usato? Questo è un olio nuovo, un olio un po' delicato, che ancora non ha una gran struttura ma ci serve proprio per lasciare i sentori della carne al nostro palato, quindi lo useremo. Perfetto, allora fammi vedere come finisci di condirla e ovviamente come la impiatti, perché la cosa più bella di voi chef è anche vedere come riuscite ad impiattare. Ok, sveleremo questo segreto, andiamo a aggiungere un po' di olio e la lasciamo un pochettino amalgamare. Ok, aggiungi anche il sale o il sale lo aggiungi per ultimo? No, no, lo aggiungiamo adesso, il sale, tanto la mangeremo quasi subito, quindi aggiungiamo questo sale maldon che è in cristalli, quindi va un pochettino rotto, sennò si ritrovano troppi cristalli grandi all'interno della bocca, cosa che lascia un po' di croccantezza, quindi va bene. E una volta aggiunto il sale e un pizzico di pepe che dà un po' di speziato al nostro battuto. E anche un po' di profumo, perché ora che l'hai preso si è sentito anche qui. Sì, è un ottimo pepe e allora a questo punto possiamo incominciarla a impiattare. Perfetto. La mettiamo nel nostro ring. E crei quindi un... Sì, ci permette... Ne fai il centro del piatto. Sì, ci permette di dargli una forma abbastanza regolare. E aggiungiamo un po' di capperi. Sì, questi mi dicevi sono capperi di pantelleria, però... Sono dissalati, li abbiamo dissalati, erano sotto sale, li abbiamo battuti un pochettino a coltello e ci mancano le nostre erbette. Perfetto, quindi a questo punto il piatto è pronto e io che assaggio vi saluto perché vado ad assaggiare. Ciao!